Tutto questo è costruito con una visione a cavaliere, quindi senza l'effetto prospettico che proprio in quegli anni Masaccio sperimentava, eppure essendo in condizioni di farlo anche Lorenzo Monaco, ma volendolo evitare sul piano psicologico. Allora immagino che c'è una visione a cavaliere, un porto che in realtà sembra un lago, e quel lago ha dei presidi, chiunque vada sul lago trova, non so sul lago Cresimeno, su Cresimeno, piccole cittadine che si affacciano, e quelli sono i castelli sul lago, li vedete? Ogni castello segna un luogo abitato del lago, che in realtà è un lago che a circa punto si apre, come se appunto si potesse superare quel lago e mettersi in uno spazio aperto, quindi superare i potenti colonni d'Ercole. Ma quella chiusura è protezione, è il senso della salvezza, della tutela che San Nicola dà ai naufraghi, e sa che li porterà in un porto sicuro, che può essere uno di questi, qui c'è una colonna, qui c'è una torre, qui c'è il porto più vicino, e in fondo si vede oltre lo spazio di questo lago, o comunque di questa apertura verso uno spazio più grande, si vede l'altra città lontana.